A Giulianova inizieranno a stretto giro i lavori di riqualificazione dei sei appartamenti di una palazzina di proprietà dell'Ater danneggiati dalle scosse sismiche del 2016-2017. Gli interventi riguarderanno la riparazione e il rafforzamento dell'edificio di via Salerno 3 dove risiedono sei famiglie. Costo dell'intervento 335 mila euro. Un grandissimo ringraziamento all'Ater della Presidente Ceci, alla Regione Abruzzo che si sono spese per portare i finanziamenti qui a Giulianova, interventi che aspettavamo da decenni e invece che fare le solite promesse stiamo rispondendo sul campo con l'ennesimo cantile dell'Ater che apre. Siamo partiti da via Brodolini, adesso abbiamo aperto ieri quello di via Salerno ma non ci fermiamo qui perché sono stati fatti ulteriori interventi sulle case popolari di via Terracini e stiamo cercando di, ripeto, di dare delle risposte su delle case che purtroppo sono ammalorate e hanno delle problematiche che vanno avanti ormai da tantissimi anni e tantissimo tempo. La tipologia di intervento è la stessa di quella avviata nel Comune di Silvi e su due palazzine sempre di proprietà dell'Ater a Martinsicuro, inserita nell'atto d'intesa siglato dal Presidente della Regione Marco Marsilio e dalla Presidente dell'Ater Maria Ceci il 10 giugno del 2020. Un atto in assenza del quale l'Ater di Terramo non avrebbe potuto portare a compimento l'iter essenziale per l'avvio dei lavori. Questo per una precisa scelta dell'Ater adottata nell'ottica di contenere il disagio di un trasloco. Infatti i lavori saranno realizzati senza costringere al trasferimento le famiglie ma adottando tutte le azioni necessarie a rendere il meno complicata possibile la coabitazione tra i residenti e il cantiere. I lavori del sisma, quindi anche qui non si capivano tutti questi ritardi. La cosa positiva è che gli inquilini non dovranno lasciare le loro abitazioni perché vi assicuro che sarebbe stato un vero e proprio problema regare un danno a questi abitanti. Quindi non solo diamo delle risposte ma cerchiamo anche di venire in conto a quelle che sono le esigenze di persone che comunque vivono all'interno di queste abitazioni.